ciao benvenuti sul canale benvenuti alla serie car of the day questa settimana che dedichiamo alle auto cabrolè perché siamo in piena estate questa calura tremenda oggi questa settimana le dedichiamo alle auto cabrolè questa è una camaro ss del 69 guardate che bella della hot wheel roadster questa qua è del esattamente del 2020 e si doveva tenuta lì una delle tante che abbiamo ancora chiuse e tanto che che l'apriamo buon ferragosto perché oggi è ferragosto tanto che guardate questo video io sarò spapparazzato al sole spero anche voi e meritate vacanze eccola qua guardate che bella che bella sta macchina zoomiamo eccola qua guardate che macchina bella questa qua la camaro ss cabrolè effettivamente una gran bella macchina guardate che cerchi praticamente c'è tutto il cofono anteriore le fiancate disegnate marchio hot wheels dietro e gudia e peccato che manca diciamo la la grafica nella parte posteriore un po di colorazione dei fanali dietro e davanti poi una bella macchina bella solida interni neri bella macchina insomma una macchina che se vorrei anche avere nella realtà anche se le macchine americane sono un po particolari perché sono tutto volume tutto fumo niente a rosso le definisco io sono macchine che avevano bei motori potenti però confrontano le macchine europee con motori più piccoli diciamo in proporzione alla potenza non era niente soprattutto è il controllo il controllo che sia di queste macchine ho guidato alcune di queste qua d'epoca americane in america effettivamente quando sei sulle stradone loro va benissimo ti diverti però se per niente niente dovessi usare una macchina così sulle nostre strade effettivamente diventa un po antipatica guidare perché non è fatta proprio per le strade nostre per esempio farsi un bel passo di montagna con questa non ti diverti ti diverti invece andare su quelle stradone americane infinite e che quando mi ricordo una volta ho fatto da los angeles ero andato fino a las vegas ho fatto un'interminabile strada infinita con quella allora ti diverti ti diverti relativamente perché poi sul dritto divertirsi e non è che sia tanto entusiasmante finisco più le curve però vabbè su una strada così californiana o anche qua una volta è nato da a Miami a Coccobice dove c'è Cape Canaveral mi ricordo ero andato di corsa perché ero giù perché seguivo la lente spaziale l'ESA italiana che stava facendo i moduli per la stazione spaziale americana e aspettavamo che partisse lo shuttle non partiva mai perché c'era brutto tempo c'erano condizioni quindi un giorno ho detto vabbè oggi me ne vado giù a Miami a farmi un giro sono andato giù il tempo che ero giù mi chiamano guarda che tra poco parte e sono mi fatto quell'autostrada lì a tutta velocità per arrivare in tempo proprio per la partenza dello shuttle è una cosa veramente entusiasmante la partenza dello shuttle era una cosa pazzesca perché poi noi arriviamo dalla stampa arriviamo in prima linea quando ha acceso il motore ha fatto questa esplosione questo rumore incredibile è stata una delle cose veramente più emozionanti che abbia visto nella vita eppure ne ho viste tante perché io prima facevo le reporter di viaggi e di tante altre cose quindi ho vissuto tante tante esperienze e quella lì e quando ero giù negli Stati Uniti spesso e volentieri mi noleggiavo una macchina sportiva dalle corvette e poi qualche amico magari mi prestava e faceva provare queste qua diciamo quelle vintage è una di queste mi sembra davvero la proprio guidata macchina particolare che subito devi farci la mano poi quando ce la fai sì ti diverti ma io preferisco più le nostre più compatte le senti di più le senti di più niente dai questa quindi è è la camaro la ss del 69 quindi questo è il car of the day una settimana dedicata alle auto cabriolet e vedrete ne vedrete delle belle questa settimana ne ho scelte alcune tutte da aprire perché poi ne ho tantissime altre tutte della hot twist ne vedete delle belle quindi non perdetevi i prossimi video tutti i giorni alle 16 30 è ora italiana e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lì mi raccomando invitate i vostri amici perché vorrei raggiungere almeno quota mille stiamo salendo poco poco col contagocce col contagocce però vedo che youtube non da qualche tempo non ci premia non ci dà visibilità perché una volta i video avevano migliaia di visualizzazioni adesso quando ne hanno centinaia già tanto quindi vuol dire che youtube ci sta un po castrando un po frenando non ci sta facendo vedere dando la visibilità che si merita che meritiamo che merita un canale che insomma che produce video tutti i giorni video personalizzati e di nostra produzione quindi dovrebbe dare dei punteggi invece niente quindi grazie a voi grazie a voi che lasciate commenti magari condividete riusciamo a salire avere un po più di visibilità e poi magari decolliamo chissà decolliamo così faremo qualcosa di diverso poi mi piacerebbe andare anche a caccia di vecchie macchinine magari in altri paesi tipo tornare negli stati uniti andare fare un bel video sulla caccia delle macchinine negli stati uniti andare dalla mattela chissà fare tante cose tanti progetti però se non ci sono video se non ci sono visualizzazioni diventa un po tutto difficile niente dai ho divagato un po tanto oggi fra agosto siamo lì al mare ci spapparazziamo ci divertiamo io sono in sardegna in questo momento questo momento del video no in questo momento che lo guardate sì e spero di trovarmi un po di onde da fare un po di surf con con graffio e scarlett e niente dai ci vediamo domani con un nuovo video ciao a tutti ciao 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 iscriviti al canale